Nel giorno di Ogni Santi a Teramo, grande flusso di visitatori nel cimitero urbano di Cartecchio, dopo il blocco dell'anno scorso causato dal lockdown per l'emergenza sanitaria. Giorni impegnativi anche per i volontari di diverse associazioni cittadine, presenti per vigilare i cinque punti di accesso ai padiglioni ancora inagibili per i danni provocati dai terremoti a cavallo tra il 2016 e l'inizio del 2017. Ma questo dovrebbe essere l'ultimo anno, visto che i prossimi mesi, stando a quanto annunciato dall'amministrazione comunale, saranno completati i lavori di ripristino dei padiglioni in questione, che dunque torneranno accessibili senza limitazioni. Quest'anno sarà l'ultimo anno perché abbiamo già appaltato i lavori per la messa in sicurezza dei padiglioni inagibili, la ditta ha già impiantato il cantiere, ovviamente in queste giornate non possono lavorare, ma dalla prossima settimana inizieranno i veri lavori di messa in sicurezza che sono lavori di messa in sicurezza per superamento proprio delle inagibilità che sono state emesse successivamente al sismo del 2016-2017. Tempistiche dei lavori? Si parla la ditta, diciamo che fermo restando la capacità di reperire materiali che in questo periodo è abbastanza complessa. Mi parla intorno a marzo-aprile, ma ragioniamo con giugno, ragioniamo di giugno in modo tale da essere più tranquilli. Probabilmente ce la faranno anche prima, però diciamo che prima dell'estate sicuramente il cimitero tornerà ad essere totalmente agibile a tutti i cittadini. Oltre al controllo gli operatori hanno accompagnato i cittadini suddivisi in piccoli gruppi all'interno delle strutture transennate inaccessibili negli altri periodi dell'anno. Si, su richiesta del comune abbiamo dato la disponibilità per dare modo alla popolazione di venire a visitare posti inagibili. Sono tante le persone che già sono arrivate? Beh si, parecchie. Sono tante problematiche, quindi le persone vengono parecchie ogni giorno. Basta venire qui nello stand dove è il padiglione che interessa la persona, a fare la fila nel caso ci sono altre persone all'interno, mettersi la cuffia e il casco e viene accompagnata da un operatore di protezione civile all'interno. Per qualche minuto il tempo di un saluto e poi viene riaccompagnata da fuori.